che cos'è per te la politica e a che cosa serve è quella cosa da cui dipendono le sorti di tutti i cittadini del mondo ciascuno per la sua politica e per il suo paese a che cosa serve vedi risposta precedente serve a determinare i destini della gente motivo per cui dovrebbe essere presa sul serio. Dunque qual è il futuro della politica? Questa è una domanda più complicata perché penso che la politica essendo quella cosa fondamentale per la vita di tutti di cui parlavo prima non credo che abbia una fine può avere dei periodi più o meno brillanti questo credo non sia brillantissimo in Italia negli Stati Uniti per esempio invece è un periodo molto brillante. Grazie e buon appetito!